siamo a plaza real siamo sbucati qui da un vicoletto preso da parte della rambla la giornata da questo lato sembra quasi bella nel senso che c'è il sole guardate che bella questa plaza ciao a tutti buongiorno a tutti amici di livebot volevo farvi sapere che siamo a palma abbiamo preso l'ascensore perché abbiamo i passeggini ci siamo invitati tutti gli scalini e ci siamo ritrovati in questa grande piazza oggi c'è il sole il tempo è splendido buona giornata video di saluti per tutti voi ciao